A me Maria Purissima Benvenuto al servizio di confessione automatica della Chiesa Cattolica Per favore, per iniziare, dica il suo nome Figliolo, non ti preoccupare, questo è un nuovo tipo di confessione automatico Abbiamo preso la fie di San Giorgio Ionico Un'occasione, 80.000 euro, 25 anni lì Mi raccomando, ma che te ne vai? Lascia 50 euro Che dove l'hai spesso a sé? Mi chiamo Uccio De Santis Il suo nome è Uccio De Santis Indichi per favore il peccato che ha commesso Adulterio Adulterio Non ho inteso, ripeta per favore Adulterio Ha selezionato Adulterio Adulterio È corretto, signor De Santis? Per favore, per scegliere la sua penitenza Diciti il numero delle donne con cui ha commesso adulterio Oh, sto girando Un... 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 Ha commesso adulterio 111 volte È corretto No, no C'è... Un... No, uno, non funziona Non funziona Per espletare la sua penitenza Deve andare direttamente All'inferno No, no, no Non funziona Non funziona Non funziona Cami Com'è? Qua sei tu Maledetti Ieri mi è frecata il karaoke E io ti sono frecata la confession Chi l'ha fatto?